Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di reaction a contenuti dell'internet di gente che vola, cose strane che succedono, brasiliani che fanno bassi, bassa... Quanto basso era? Era tipo a 20 cm dal suolo. Cosa è un cesnabo? Carrello del trattile però. Cioè, è più basso che non se fosse per terra con il suo carrello qua, eh? E poi c'è la gente là, sul bordo della pista, cioè, tanto così dall'ala, tranquillissimi, che se quello là sbaglia appena un attimo la direzione non si ammazza solo lui, ma ne fa strike. E poi, fum! Ma di colpo? Ma quanto ha tirato? Deve essere un grande aereo, come proprio pilotabilità e come tutto, se questo tizio è ancora vivo. Comunque, proseguiamo con un pilota militare che sta facendo i 700 nodi supersonico a 150 piedi, che sono 350 metri. È basso basso sull'oceano, ma tanto finché è sull'oceano, gli basta evitare le barche. Deve essere bello. Poi, secondo te, a noi subito, eh? Perché cioè, alla fine, ok, stai andando veloce, ma tanto non c'è niente che te lo dica. Non hai ostacoli che ti passano vicini, non hai cose da schivare, curva, tutto dritto. La velocità diventa un po' superflua. Tutto divertente finché non starnutisce, effettivamente. Cioè, per rimanere a quella velocità così basso sul mare, comunque... No, vabbè, avrà l'autopilot. Sarà un tornado, non lo so, non penso, no. A proposito di gente bassa sugli specchi d'acqua, questo con il suo aereo bush arriva a trovare gli amici sulla barca. E l'amico... Ma fermo, vai, più in là! Che bello deve essere. Poi non proprio legale, immagino. Ah, divertente. Dimmi che tocca con le ruote. Oh, yes! Questa è delicatissima perché, dischi, sia di fare troppo dritto con le ruote e quindi di picchiarti dentro l'acqua con l'aereo, penso, sia... Boh, non c'è... Però è figo, lo vedo fare spesso dei piloti bush. Avanti, un altro reel! Allora, andiamo totalmente nella storia. Andiamo nel 1926, quando la manutenzione agli aerei era fatta in volo. E questo qua è un'ottima dimostrazione con una signora, penso sia una tipa, una donna, che si arrampica in cima all'ala di un biplano, all'ala superiore, e poi va sull'altro aereo, si arrampica, c'è capito, la sicurezza sul lavoro, a parte che ovviamente è una dimostrazione, però è comunque un lavoro, è comunque una roba... Non è legata, non ha l'imbragatura, le cose... Cioè, se perde la presa da un filo, c'è il vuoto! Ah no, poi ok, è tirato in piedi sull'ala, tra l'altro attaccandosi ai cavetti d'acciaio. Capito come funzionava, che bello è! Questi sono video d'epoca proprio, sì, una donna di 26 anni, senza imbracatura né paracadute. Proseguiamo con una amara verità, se i piloti progettassero le automobili. Questo purtroppo è vero, cioè, gli aerei sono sbagliati, brutti e no come interfacce. Cioè, ok, da piloti abbiamo bisogno di più informazioni rispetto a un conducente di un veicolo su terra, di una macchina, per dire, ci servono più informazioni sia sullo stato del motore, con la pressione dell'olio, della benzina, quelle robe là, sia di tutto lo stato del volo e la velocità e l'altimetro e la bussola. Però sono proprio sbagliate come interfaccia, sono controintuitive, sono... Cioè, è ovvio che poi da pilota ti abitui e ti sembra la cosa più naturale del mondo, ma la curva di apprendimento, boh, ci deve essere in modo di fare le cose meglio, e però le facciamo uguali da 120 anni, e siccome per 120 anni ogni nuova generazione di piloti lo impara così e poi è abituato a usarlo così, ed è più sicuro se continua a usarlo così, perché quando impari cose nuove è più probabile che sbagli qualcosa, e se sbagli qualcosa è più probabile che succedano incidenti, si finisce tutt'oggi ad avere schiere di lancette, cose brutte, ma anche se ci metti il Garmin, comunque come interfaccia non è che sia il massimo con i bordini neri, con le scrittine, che devi andare a premere i tasti, se è un G1000 o il touch del G3X, che boh, o come sono organizzate le informazioni, o anche alcune informazioni che sono superflue. Chissà, chissà se tra 50-100 anni saranno ancora a volare con gli strumenti di oggi, come concetto. Ma noi intanto proseguiamo con un aereo, un bel biplano, che decolla, ha delle scritte in cirillico. Cosa gli succederà di grave? Che sta tirando troppo e ci sono degli alberi? Che finisce dritto ne... Nooo, era un bellissimo biplano, non so neanche che cosa fosse, ma era bello! Era per tanto bello! Poi era grosso, poi era un biplano, poi era palesemente un po' antico, quantomeno. Cioè, la pista era ovvio che fosse troppo corta. Non c'era lo spazio, in più probabilmente non c'era la density altitude. C'è il vento che sembra quasi essere in coda da come si muovono le piante. È tutto così sbagliato. Poi non si saranno fatti niente, perché negli alberi non ti fai niente. Va bene. Andiamo avanti con un jet, che è una fiamma ossidrica. E stanno... boh, o cucinando i marshmallow o facendo dei test del motore. Figo, figo. Pensa che fiducia devi avere in quella cinghia comunque, perché, cioè, se si rompe quella ti vai a schiantare istantaneamente contro il più vicino muro nella direzione per dritto. Però, aspetta per tutti gli allievi piloti. In attesa che entrambi i piloti, del volo di linea ovviamente, che entrambi i piloti diventino incapacitated, che diventino, insomma, che boh, svengano, che comunque non siano più in grado di pilotare l'aereo. E lui è lì con la licenza. Quello là è il testerino di plastica, così è come sono le licenze di volo in America. Da noi invece sono delle fisarmoniche di cartoncino bruttissime. E quindi lui è lì pronto con la sua licenza per dire Ah, sì, sono pilota, fatemi guidare a me! Ma appena i piloti stanno male entrambi, insomma, vabbè, che entrambi non possano più pilotare. Nella realtà questo non può capitare. Quindi se state facendo qualsiasi addestramento da pilota e siete lì pronti con la vostra neanche licenza, con il vostro logbook, con 12 ore loggate, non potrà mai succedere una cosa del genere. Sia perché due, i piloti sono due apposta, e nei voli intercontinentali sono addirittura tre, proprio perché, cioè, è proprio quasi impossibile. Poi è la statistica che due persone a caso stiano male contemporaneamente. Tra l'altro mangiano in posti diversi. Ci sono tutta una serie di cose proprio per evitare che magari gli venga lo sciopon, come si dice in italiano, per qualsiasi causa esterna, tipo un pasto con roba andata male. Quindi ci sono tutta una serie di misure. È impossibile che stiano entrambi male, cioè, non succede mai. Prendete Flightradar, guardate quanti aerei ci sono per aria in questo istante. Pensate che ci sono così tanti aerei per aria in ogni istante di ogni giorno che voi passate sulla Terra, perché vai in vacanza magari una, due volte all'anno, prendendo l'aereo. Ma pensa che così tanti aerei volano in ogni momento al mondo. Pensa quanti ne volano al giorno, alla settimana, al mese. E due piloti su due che stiano male, quando mai? Ma a parte quello, comunque, c'è la porta blindata, anti-dirottamento, e quindi puoi essere pilota quanto vuoi, ma se sei seduto fuori dalla cabina non c'è verso. Ovviamente è un reel divertente, però era anche simpatico spiegare come funzionano le cose. Ma proseguiamo con... Cosa sto facendo? Ah, le foto. Le foto... Ehi, bravo a fare le foto. Tra l'altro non so perché ho messo like a questo reel, perché non l'avevo ancora visto, però vorrei metterlo anche in questo momento, perché è molto bravo a fare le foto. Tra l'altro guardate, ha quella sorta di piatello di gomma per non avere riflessi sul canopy, sul vetro, che è curvo, insomma, e che gli farebbe riflessi un po' fessi. Bello, figo, interessante. Però seguiamo, proseguiamo con un aereo che a terra dice Wait for it. Non so se me l'avete mandato. Succederà qualcosa? Ma che... C'era la pista! Ma cioè, o stava guardando dentro, stava guardando lo strumento, l'altimetro, aveva l'altimetro pure rotto. Che botta ha preso sul carre... Ah, guarda la ruota del carrello, come gli sta andando malora. Ma che è che a terra in questa maniera? Ma da cambiare sette carrelli e mezzo e da rifare i motori, le eliche... Che botta può aver preso? Rivediamocela. Cioè qua non raccorda proprio la traiettoria, cioè non la raddrizza. Lui prosegue dritto, dritto, per la sua strada, boom, come un Ryanair. E infatti ha fatto il rimbalzone, poi tutto destabilizzato. Allora, i Ryanair sono famosi, un po' come un M per gli atterraggi un po' duri, ma in realtà l'atterraggio così duro è uno degli atterraggi più sicuri che puoi fare. Perché ti metti subito giù, ti metti con forza a contatto con la pista, non è il massimo comfort per i passeggeri, e sicuramente pone un po' più stress su tutto quanto il carrello, magari serve più manutenzione, cose varie, ma sicuramente ti permette di cominciare a frenare da quasi subito, e comunque è un modo non comodo, però sicuro per atterrare. L'atterraggio duro alla Ryanair. Questo no! Questo, cioè, qui è troppo duro, perché quando è duro che rimbalzi... Vediamo se qualcuno ha commentato cose. Ah, qualcuno dice ex Navy pilot, un pilota ex marina, insomma, abituato ad atterrare sulle porta aerei. Ah, ecco, qua abbiamo anche il report del NTSB, la National Lente di Sicurezza, insomma. Allora, 15.40, orario locale, Cessna 441, è atterrato duro, è rimbalzato otto volte in British Columbia. Nessun ferito, stava arrivando dalla British Columbia, il nose wheel ha cominciato a scimmare, è atterrato con significativo vento in coda, quindi è atterrato più veloce di quanto si aspettasse. Ho capito, però comunque non ha raccontato... Cioè, lì non ha visto che gli stava venendo incontro l'asfalto, palesemente, sto qua. Ah, e poi aspetta, gli occupanti sono ripartiti, anche se l'aereo era danneggiato? Cioè, tre ore dopo sono ripartiti? Sono stupidissimi! Cioè, potrebbero aver addirittura picchiato le eliche con un atterraggio così duro. È un attimo che la puntina dell'elica ti gratta per terra e magari la botta si ripercuote nel perno del motore e tu magari nella fusoliera neanche la senti. Cioè, guarda come sono atterrati! Magari nella fusoliera neanche la senti, però ti si fanno cricche sul perno del motore e magari ti si stacca tutto fuori. Va bene, avanti un altro. Ah, guarda, è un Ryanair che è a terra. Ryanair non ha bravi piloti. Il bravo pilota. Oddio, forse l'abbiamo già visto questo, non me lo ricordo. Sì, comunque è tutto zoomato e c'è una compressione dei piani incredibile e non è che si sta spostando per di fianco l'aereo, è solo che manca di prospettiva tutto il video. Però comunque fa il suo ottimo atterraggio con un significativo vento attraverso, a quanto pare. Pilota! Allievo pilota! Una ma... Che botta! Cioè, neanche botta, perché l'aereo va dritto per dritto per la sua strada, ma gli ha proprio azzerato il carrello. E il guidatore... Vabbè, cioè, il guidatore era sicuramente cosciente che stava passando in testata pista. E l'allievo pilota, lui aveva la sua traiettoria e fino a un momento prima la macchina non c'era, quindi non c'erano ostacoli, a parte quello staccato che è significativamente più basso. La colpa probabilmente è di chi ha progettato un aeroporto fatto in questa maniera. Guarda, due ruote ha avuto un culo assurdo che l'elica era già passata, perché anche il guidatore della macchina ha avuto culo, perché sennò l'elica passava e lo affettava, altro che... Il piano di coda non si capisce niente, perché poi il cameraman sussulta. Non riesco a capire se il piano di coda si è danneggiato. Però questo penso che entrambi se lo ricorderanno per tutta la vita. Se lo studente era tirato sano e salvo, perché comunque gli è rimasta una ruota, quindi con l'aero tutto sbilenco, probabilmente si sarà strisciato tutta la pista. Idea e regalo per uno studente pilota. Allora, c'è il plane tag. Tra l'altro, uno dei primissimi video di questo canale è stato un unboxing in cui unboxavo un po' di cose che mi servivano per volare, tipo le cuffie, la borsa a volo. E avevo preso anche un paio di plane tag del sito di questi qua. Sono degli americani che comprano rottami di aerei e tagliano proprio con la fusoliera di un aereo, ti tagliano dei portachiavi. Molto molto carino. Ne avevo preso proprio un Beechcraft Bonanza, tra l'altro, A36, che ho tuttora sulla mia borsa a volo, ancora lì, e un Beechcraft Starship, grandissimo aereo, guardatevi il video che ho fatto dedicato allo Starship, che ho promesso un giorno andrà come portachiavi delle chiavi del mio aereo. Quindi, ok, il plane tag, la borsa a volo, ok, 99 dollari, ah, e il Sirius Vision, giustamente, ah, che bello è! Jet, 3 milioncini, giustamente, e che fai? Non lo regali? È uno studente pilota? Dipende in quanti siamo a fare il regalo. Vediamo, facciamo il gruppo WhatsApp, vediamo se... la borsa a volo o il Sirius Vision, ma... Questo bro, invece, flexa il suo F-16, facendolo rimbalzare, come una muscle car americana, a un raduno. Come fa? Probabilmente sta solo frenando, ritmicamente, sta giocando un po' con i freni, per caricare peso sul carrello frontale, e rimbalzare, però lui è lì con il suo F-16, super chill, che poi dall'altro deve essere militare, perché le F-16, non penso che possano pilotarli i CV, no, è troppo moderno le F-16. Ci sono dei jet militari che puoi comprare come civile, però sono un attimo più adattati. Questo è una clip di Oshkosh 2023, quindi il grandissimo evento dell'aviazione, degli aerei, quel magico posto, l'anno prossimo voglio andarci. Ci sono aerei di tutti i tipi, dai più piccoli ai più grandi, e addirittura uno dei tanti che atterra qua sulla pista, e lo stanno inseguendo con la classica macchina spotter, per fargli da spotter appunto, è un U-2. C'era un U-2 a Oshkosh, e tra l'altro io nelle storie Instagram, ve l'ho segnalato in tempo reale, ve l'ho taggato in volo, e vi ho detto, ah, guardate su Flightradar che c'è un U-2 in volo, starà sicuramente andando a Oshkosh, perché sta attraversando l'America. era lì tranquillo, a boh, tipo 65.000 piedi, che si faceva ai fatti suoi. Che grande aereo l'U-2. Magari vi farò un altro episodio della serie dedicata all'U-2, perché gli altri episodi vi sono piaciuti all'infinito, ma questo reel, occasione unica e rara, ci permette di sentire il suono, di un U-2 che ti passa sopra la testa. Tra l'altro vedete quei bolloni colorati che ci sono sulla pista, tipo ne hanno appena passato uno viola, ma ce n'è uno azzurro, mi sembra, là in fondo. Ah no, guarda qua ce n'è uno giallo, sono un po' sporchi dalle gomme degli aerei, ma sono dei bolloni colorati. Siccome c'è così tanta gente, così tanti piloti, così tanti aerei che arrivano a Oshkosh, funziona in una maniera incredibile. Il piccolo aeroporto di Oshkosh ha due o tre piste, mi sembra, e però c'è così tanti aerei che arrivano che devono fare atterrare aerei contemporaneamente, cosa che normalmente sarebbe vietatissima, eccetera, eccetera. Devono essere addirittura separati normalmente. E invece lì hanno comunque queste due piste che sono un po' lunghe, e quindi hanno questi bolloni colorati, e ti dicono, ok, atterra sulla pista 2-6, per dire, non mi ricordo quali siano le piste, atterra sulla pista 2-6, sul bollone verde, e tu devi andare a mettere le ruote sul bollone verde, quindi devi essere anche un minimo schillato, perché non è che puoi atterrare dove vuoi, ma devi atterrare su quello verde, perché magari c'hai uno che sta atterrando sul bollone rosso dietro di te, e se atterri troppo presto, tu vai più lento, chiaramente, visto che sei ormai a terra, e lui sta ancora atterrando, e ti viene addosso, oppure contrario, potresti, se vai lungo, rischi di andare a... è molto interessante come sistema, ma è l'unico modo per gestire così tanti aerei, tra l'altro hanno delle procedure di avvicinamento lunghissime, tipo 50 miglia, che sono, non so, 80 chilometri di corridoio, seguendo le strade, seguendo i fiumi, con tutti gli aerei, tutti alla stessa velocità, tutti allineati, cose bellissime. E per ultimo vediamo, così, un caccia, che se ne vola, fa la sua virata, il tramonto, le cose belle, il pollice in su, che metterete a questo video, se il video vi è piaciuto, ma soprattutto, il fatto che controllerete, se siete iscritti al canale, e se non siete iscritti, iscrivetevi, perché escono un sacco di video bellissimi, su questo canale, dedicati agli aerei, dedicati all'aviazione, voliamo, anche noi, perché cioè io sono pilota, e quindi andiamo, facciamo giri, andiamo a Napoli, a prendere la pizza, cose varie, per questo video è tutto, ciao a tutti!